Che vita stressante, non ho più un soldo, ho speso tutto per la licenza del taxi dato che non riuscivo a trovare lavoro Adesso ho 0 dollari e non so se riuscirò a guadagnare qualcosa con questo lavoro Spero proprio che riuscirò a trovare qualche cliente quest'oggi per iniziare ad avere qualche soldo, almeno per la cena Ehi, signore! Speriamo bene Sì, sì, chi è, chi è, chi è, mi dica Salve, salve, buongiorno Ascolti, mi puoi portare in un posto? Certamente, il mio lavoro Salga pure, salga pure Ok, salgo, sì Dove vorrebbe andare? Io l'ho già segnato nella sua mappa perché io sono super tecnologica Ok Mi deve portare all'ammunition qua vicino Perfetto C'è un caldo assurdo, far me la piedi è un po' troppo esagerata Ha ragione, assolutamente Eccoci, siamo arrivati, signorina, guarda Mi accosto un attimo qua così nessuno ci rompe le scattere Grazie, grazie, lei è molto gentile Allora, no, no, scusi Scusi, si sta dimenticando di pagarmi Arrivederci Venga, grazie per il passaggio E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef Che stai chiamato GTA 5 E oggi siamo qui con una serie davvero molto molto particolare Allora, è molto molto semplice secondo me Io sono diventato un tassista E è diventato il mio nuovo lavoro Però non ho soldi perché ho speso tutti i miei soldi Per comprare la licenza da tassista E certo, è certo Di conseguenza devo lavorare Devo prima di tutto pensare a fare qualche soldo Per poter mangiare a pranzo e a cena Dopodiché dovrò fare qualche soldo per comprarmi una casa Mi toccherà dormire addirittura nel mio stesso taxi fare Che vita Puoi immaginare che vita c'è Che dovrò fare Però piano piano cercherò di guadagnare soldi E di andare avanti nella vita Signor tassista Sì? Che succede? Signor tassista, per fortuna Ma chi è lei? Sono un uomo d'affari Ok Mi chiamo Fernando il milionario È il mio cognome Già dalla nascita tutti sapevano che io sarei diventato straricco Però adesso non la voglio annoiare con questi discorsi Devo fare una cosa importantissima Mi deve subito portare al mio ufficio Sì, ma posso chiederle una cosa prima di partire? No, si deve muovere Non mi può stare È normale che uno ricco ha una pettinatura così Cioè, i calciatori ce l'hanno Però di solito i miei affari sono un po' più eleganti Scusi, Fernando, non si offenda Allora No, era solo una La porto lì in due minuti Questa è una pettinatura di moda e sai quanto l'ho pagata? 250.000 dollari Ah sì? Sì Davvero? Potrebbe regalarmi 250.000 dollari per comprarmi una casa? No Però se la vorrà le posso dare una buona mancia Ok Senza infrangere la legge andare il più veloce possibile Ok, grazie Fernando E' il primo giorno signore Ma perché mi è capitato lei Ha avuto un po' di sortuna devo essere sincero Allora infatti credo di aver scelto anche la strada peggiore possibile Però Non si è fermato allo stop giusto per dire Ma no ma qui gli stop non vengono rispettati Guardi che questa non è una bella zona Lo so infatti è meglio muoversi Guardi le persone che non sono milionari come me Guardi Questi la attaccano se lei non va bene Signor Fernando lei giudica le persone in base a quanto sono ricche Certo Ma non è una bella cosa lo sa Mi deve fare la morale o mi deve portare al mio ufficio Posso fare entrambe le cose Allora mi ha chiamato la mia segretaria E mi ha detto che c'è un affare importantissimo Che va fatto Ci fanno gli affari giusto Entro mezz'ora Entro mezz'ora Allora devo andare velocissimo Scusi Scusi Sia tranquilla è tutto in regola Adesso capisco perché lei non ha soldi e perché fa schifo No 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 Guardi quanto stanno andando veloce non sono un campione Ho un po' di sortuna però deve ammetterlo Che con questi semafori Quando si ha fretta si becca sempre il semaforo rosso Sì sì è una legge proprio E poi guardi questi furfanti che vanno lenti 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 Ecco ci ha fatto prendere un altro semaforo rosso per colpa di quello lì che va lento Ok siamo arrivati scendo scendo forza e non perdendo tempo Ok ok ecco i soldi 15 dollari 15 dollari Ma come solo gliele do mille Tenga cioè lei tanto non ne ha Non me ne faccio nulla Arrivederci anche se ha preso gli ultimi due semafori rossi Altrimenti gliene avrei dato anche qualcosina in più Ma è sicura mille Sì sì io non me ne guardo Allora per me mille dollari Ok Sono come i suoi cinque dollari Quindi non mi contesti Se li prenda ringrazi e vado a casa Arrivederci grazie Devo correre Grazie mille Grazie Ora posso cenare Finalmente posso andare a cena E' una cosa bellissima Ma quasi quasi vado anche a dormire in un albergo Perché con tutti questi soldi Posso fare la vita da ricolmere per un giorno Anche se forse mi conviene risparmiargli un po' Ah parcheggiamo qui e compriamoci qualcosina da mangiare Finalmente posso cenare Allora al market non venderanno chissà quale cosa buona Però almeno mi posso comprare qualcosa Buongiorno buongiorno Oggi è stata un'ottima giornata di lavoro Quindi come è andata oggi? E' andata bene Andata bene Praticamente allora c'è stata la furfante che mi ha fatto perdere tutta la giornata Eh sì che ancora non l'hai beccata Però andando a cercarle in giro Ho trovato un cliente ricchissimo Ah sì? Che mi ha dato mille dollari Wow Per tipo due chilometri Una roba totalmente folle E perché stai mangiando con le merendine se ti ha dato mille dollari? Eh perché non so cucinare Ah ok Però posso mangiarmi le barrette energetiche Ok Che teoricamente mi danno una bella mano Sono molto nutrienti Potevi prenderti magari anche una pizza Un po' di cioccolato fondente Sì va bene va bene va bene Se sei felice tu siamo felici tutti Quindi va bene Io sono felicissimo Io sono felicissimo Se tu apprezzi le barrette di cioccolato va bene Allora aspetta che mangiamo un pochettino Cosa mi mangio? Mi mangio Facciamo questo Non è che c'è molta scelta Addirittura te ne stai andando in albergo Sì Fede Perché Addirittura Allora ho speso solo 7 dollari per la cena Certo Ok Certo Quindi mi sono rimasti Mil No 993 dollari E quindi mi vado a prendere un bell'albergo Un mezzo di lusso Mi spendo 120 dollari per dormire lì E domani riparto super carico Rimigliorare il tuo taxi Comprarti dei vestiti migliori Per fare più bella impressione No vabbè No vuoi spendere lì in albergo Perché dovrei? Perché dovrei? Ecco perché poi non va bene il tuo taxi Ecco perché Vabbè come ti permetti? Vabbè vai dai Ormai voglio vedere che albergo scegli E ma devo sempre guidare nel modo giusto Perché magari c'è qualcuno che mi sta guardando E quindi faccio bella figura Se in tutti i momenti guido nel modo più corretto Quindi guarda Rispetto tutti gli stop Vado con calma Non supero nessuno Il semaforo non era rosso Quindi non provare a mentirmi Bello questo albergo Mi hanno dato un albergo appartamento molto bello Proprio puoi fare quello che vuoi Ma c'è anche qualcosina da mangiare Perché non sono molto soddisfatto Controlla che non sia finta prima di mangiarla C'è un po' di succo No posso bere un po' di succo Bevi un po' di succo Dai dai un po' di succo ci sta dopo Per mandare giù tutto quello che mi sono mangiato Al primo attimo c'è un'altra cosa molto buona Vuoi vedere? Che cosa Fere? La bottiglia lì davanti Qual è il vino? Oh assaggia Fere devo guidare Ok Ma domani mica adesso E lo so però è direttamente meglio Non avere nessun tipo Capito? Di sostanza dentro di me Mai Però più che altro È talmente grande l'appartamento Che non so dove si trova la doccia Quindi ho bisogno un attimino di capire Guarda si può di tu rascendere qua Sì è bellissimo Vediamo Scusate c'è la doccia Hai un po' esagerato Potevi scegliere un appartamento un po' più piccolo Ma me l'ho fatto pagare solo 120 dollari Perché siamo fuori stagione Quindi non costa nemmeno troppo Credo che sia qua il bagno Sì Perfetto Mi faccio una bella doccia E poi dritto a dormire Ah che bella doccia Ci voleva proprio Ci voleva proprio Adesso direi che è ora Di andare un pochettino a dormire Che bello il panorama Non mi interessa fare Ma come no? Voglio solo dormire in un letto comodo Tutta la città che tu guiderai col tuo taxi No è meglio non pensarcela Aspetta che mi sbraio Ti sistemi un po' Cerco di dimenticarmi tutto E dormo fino a domani Ah è stata una bellissima notte L'unica cosa a fare è che mi hanno fregato un po' Non mi avevano detto che la colazione costa quasi più del dormire E mi hanno portato via un sacco di soldi Tra una cosa e l'altra Ma non devi mai mangiare negli alberghi di luscia E' vero lì C'era il profumino Non ho resistito In ogni caso Quanto hai mangiato oltretutto? Allora mi sono rimasti 759 dollari Quindi praticamente costava 120 da notte Scommetto che ti sei mangiato un sacco di cose però Ho speso 130 colazione Ferre praticamente Tutto ti sei preso Beh c'era un sacco di roba Ferre pensavo Sempre solito mangiare Io pensavo che volesse dire che potevo mangiare tutto quello che volevo No non è quello Lo devi pagare quello che mangi Vabbè Ehi tu Ehi tu mi senti? Io? Sì tu tassista Sono qui Qui dietro Qui dietro Mi hanno tamponato per fermare Mi vedi? Mi vedi? Sì ma Ascolta ho sentito dire che tu sei il miglior tassista della città È vero? Lo spero Sì Come lo spera? Lo è o non lo è? È il mio secondo giorno Però salga su perché qua c'è traffico Se vuole Allora Scusi stiamo facendo un attimino un discorso Ok Lei deve rispondere veloce perché altrimenti qui creiamo un ingordo A costo un attimo Le chiedevo Sì Lei è il miglior tassista della città? Sì però non per lei diciamo Ma ti ho sentito dire che ieri l'hanno pagata ben mille dollari per una corsa Cioè dico io Doveva essere una bella corsa Come l'ha saputo mi scusi? Non le interessa ok? Non le interessa Mi interessa come? Scusi Io conosco tante persone potenti che mi fanno sapere tutto Appunto Ma ne ha soldi perché a me non sembra da quei vestiti Cioè io non voglio giudicare perché sono il primo ad essere vestito così così eh Però Mi sta giudicando? È un po' Comunque mi deve portare a destinazione degli affari molto importanti da svolgere Ok Sì tante persone da ma Cioè volevo dire persone con cui contrattare Ah ok Sì 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 Beh certo in ogni lavoro Non da per sempre C'è bisogno di contrattare Cosa? Siamo arrivati ma è sicuro che sia questo? Sì sì sicurissimo Grazie grazie Ma è qua deve contrattare con delle persone? Sì sì lo vedi che è un ottimo posto questo per fare delle contrattazioni Non mi sembra Sì 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 Allora è 20 dollari il conto grazie Sì venga mi seguo un attimo devo venire a prenderli qua Vede questo è un banco Matt Ah sì? Vede sì Anche se lì le sembra una cosa della corrente Arrivo In realtà è un banco Matt Ok ok eccomi Adesso sto prendendo i 20 dollari E mi dia i suoi soldi Oh mio Dio Allora so benissimo che le ha guadagnato un sacco Lo so che ha guadagnato un 1000 dollari ieri Quindi li voglio Ho bisogno dei suoi soldi Non sa che gli ho speso 250 Quindi sono 750 dollari Allora mi dia 750 dollari Allora mi rifiuto Mi rifiuto le ho guadagnati Me li merito Visto che qua le vuole fare le cose Cosa vuole fare? Io le spacco il taxi Guardi 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 Non può Scusi Non volevo Pattinare ma volevo fare questo La prego La prego Si fermi Aiuto Mi scusi Mi scusi Volevo solo dare un calcio al taxi Aspetta Mi ha bucato la pancia No non è vero Allora non le ho fatto nulla È solo un taglietto Non è faccia un dramma Ma mi guardi il ginocchio Io chiamo la polizia Guardi Allora Sono nella giusta posizione Guardi Spacco il suo taxi Emergenze Aspetta Veroce polizia Non funziona neanche prendere a calcio il suo taxi È indistruttibile No Non lo aspetta Mi deve dare i soldi Polizia Polizia Non chiami la polizia Sta arrivando la polizia È meglio che scappi È meglio che scappi La polizia sta girando Mi hanno chiamato Mi hanno detto che arriva una pattuglia Mi lascia in pace Ho paura E allora sai che cosa faccio? No No Rubo il taxi e lo rivendo Non ci provare Non è mio Non sbatta ovunque Devo vendere È davvero una persona ignobile Venga Aspetti Aspetti Le faccio un'offerta Mi dica Mille dollari Allora vendere un taxi è difficile Lo sa perché c'è le cose di matrice No io allora conosco tutta la città e saprei benissimo chi vende Eh ma c'è del lavoro da fare Non sono poco Io le posso La stavo a spettire Quei 750 dollari Famosi Adesso è seduta a stante Ok come? Ok va bene E scenda fuori e gliele do No non mi fido Me l'idea qui Le appoggi in terra A paura di un taxista No non ho voglia di litigare Perché poi lei frignia e chiama la polizia Allora Visto che non vogliamo farlo in hotel alla polizia Ok Io mi metto a mangiare E dentro Diciamo la plastica del mio snack Ok Ci saranno i soldi Ok Quindi appena li butto per terra Lei si mette lì Le raccoglie Ok va benissimo Una cosa che non sono i tassisti E che hanno una pistola Per difendersi dalla gente come lei Muoia Però La stendo La stendo Ma fa schifo Ma Ma Non mi dica che ha già finito i proiettili Fa schifo Perché mi sta sparando anche la polizia E prendono le tue difese Me lo spieghi Sono riuscito a tenermi i miei 750 dollari Ma guardate come è ridotto il taxi Dovrò spendere un sacco di soldi per aggiustarlo Però Non ho altra scelta In ogni caso ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuta questa idea Nel caso sarà una miniserie Quindi Lasciate tanti like Se tanti commenti E se andagino Se vorrete vedere altri episodi di questa Miniserie Diciamo così E ci fermiamo così Per essere la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi dentro l'episodio Ciao Alla prossima Ciao 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 Autore dei sorrisi